Musica Benvenuti ragazzi, bene ritornati dal vostro gioco Siamo tornati signori di nuovo su Fortnite Sono qua oggi ragazzi da solo, sono a livello 24 Momentamente andiamo verso il livello 25 Allora perché sono qua ragazzuoli? Perché hanno messo come ben sapete la modalità Quella di tutti i sniper, quindi solamente cecchini E voglio andare a giocare perché in questi giorni Ho fatto qualche partita e mi sono classificato Una volta vittoria reale e una volta Ho fatto il secondo posto Quindi diciamo che più o meno Me la cavo, allora mettiamo in Sfida tra cecchini, eccola qua So che si gioca per forza E esclusivamente con i compagni Quindi andiamo subito a cercare la nostra partita Abbiamo preso anche ovviamente il nostro bel pupazzetto Signori di nuovo abbiamo messo un po' di skin Abbiamo messo un po' di robetta molto buona Speriamo ovviamente di giocare al meglio Signori io vi lascio un bel like perché se volete altri video di Fortnite Mi raccomando scrivetelo sotto nei commenti E raggiungiamo i 12.000 like Siamo prontissimi e vediamo un attimino Quello che riusciamo a fare ragazzi Ok allora si parte Vediamo un po' Stanno dicendo di andare su Pinnacoli Oppure parco pacifico Vabbè dai vediamo un attimino I Drey Tutti qua No andiamo tutti qua No mi sono lanciato io Allora io mi sono lanciato un pochino più indietro Quindi mi sa che faccio un po' più di fatica A meno che non mi metta a fare tipo il coglione così E forse arrivo Lo dico io Ok ci arrivo ragazzi con un po' di ritardo Ma ci arrivo quindi Arrivo eh Un attimino Abbiamo un po' di squadre contro Quindi ragazzi facciamo attenzione E qua comunque se prendo i cecchini Io sono praticamente fottuto Bene sta cosa mi piace assai Tutti che vanno col cecchino Io me la prendo nel culino Sicuramente Ok allora Ok scendiamo qua So io So io So io zia Allora calcolate che Ci sta Ah intanto prendiamo questo E questo ci può ovviamente servire Proviamo a vedere qua se c'è qualcosa Ok cecchino Perfetto Vediamo un attimo più che altro ragazzi Deve fare attenzione Allora di là So che c'era una cassa Però Eh stanno qua da me Io li sento Ok questa è buona Questa è buona ragazzi Oh che cazzo fai Ma questo se nasconde qua Perché te nascondi amico mio? Eh sta cosa Vandami Ho avuto io sta cosa Me la ciappo tutta io Ok buono Anche questo Ma diciamo che Il cecchino ce l'ho ragazzi Quindi Dobbiamo solamente Andare a rompere il culetto A qualcuno Eccolo qua Ok l'ho visto uno Guarda questo è diventato G-Spook Ragazzi è bellissimo Ok perfetto Ok va bene Anche se l'ho ucciso io Va benissimo Eh le bende però Sono buone Ah anche questo è molto buono ragazzi Io direi di berlo subito Allora intanto uno L'abbiamo ucciso Perfetto Dammi questo Che buono Dai ragazzi eh Una grilletta Una è stata fatta Dobbiamo cercare di stare vicini Però ragazzi Possiamo fare come ci pare Questo è buono tutto Munizioni Sono munizioni Vaffanculo Grande Ragazzi io questo qua Il gioco ormai Sono troppo forte Ve lo dico Cioè A cercare A gioco dei cecchini Vabbè sta mannando solo Di pistola Però adesso S'accontentiamo Allora questa casa è grande Lo stavo facendo io Sta cosa Però vabbè dai Ma fregato Ma anticipato Mi hai anticipato Questi sono molto buoni Non li possiamo usare Vabbè Meglio queste Che Giusto per capire Un attimino Vai vai Carica 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 Cazzo Vediamo un attimo Uh Preso ragazzi Mamma Eliminato Siamo a 4 kg Signori Giocherino Giocherino Spacca il culigno Allora Ok Qui chiudiamo un attimino Ok Aspettate Un attimo Vediamo un attimo Dove stanno I maledetti Ok Qua Io ci sto Raga Però Dovevi fare attenzione Pure voi Mortacci Oh Cazzo Occhio Raga Occhio Ma Fanculo Bello No Ho riusciato Mamma mia Preso Paro paro Raga No Cazzo Ok Non so se L'hai rialzato Oppure no Però forse Uno qua Dovebbe Stare per terra Vabbè Ragazzo E chi L'hai Teso Faio Ma Attenzione Se vi è qualcuno Sono fottuto Ma non so Forse Tanto Ecco Ok Ok Uno Perfetto Perfetto E sti due Mi sono ammazzati Allora Queste io Le prendo E me le prendo Però Buono Raga Buono Buono Qua sopra Ci dovrebbe stare Qualcuno Quindi io direi Un attimo Le prende Qualcosina Vi è come Bello Vi è come Che andiamo Versa la morte Sicura Però Si cazzi Tocca Inizia a muoversi E qua Qualcuno Ci sta Sicuro Non ho fatto In serio Solo a quello Raga Perché Erano due Erano due L'ho visti Ok Uh Questo Ma oddio Non è che Però mi fa Pazzire Questo qua Da me Ma Non mi fa Pazzire Questo Lo lasciano I portafori Bastardo Vabbè Più lo Stanno Ok Ce l'abbiamo Dietro L'ho preso Cazzarola L'ho preso Ok Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Raga Cerco Da andare Là sopra Se riesco Vediamo se riusciamo Amico mio Se riusciamo Non sarebbe male Oh Ma sei buggato Ma che cazzo Ma quanto cazzo Mi ha costruito Vabbè Ha fatto L'idea qua Vai Perfetto Io raga Con il fatto De costruì Ancora Vedo un parà Abbastanza Cerca Cerca di venire qua Mi servono i materiali Cristoforo Colombo Io non ho preso i pochi Eh Non ho preso i pochi Raga Giusto per capire un attimino Lo cazzo Allora stanno Sti schifosi Perché qua Hanno anche già Cazzo Ma sono i materiali Raga Allora È il fatto che C'è sta la gente Eccoli là Eccoli Ok Ok Cazzo 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 Che male Che male Che male Che male Che male Oh ce l'hanno con noi Finito Bastardi Ci hanno preso di mira Ci hanno preso le mira E' il fatto che è pieno Guarda Stanno tutti là davanti Regà Ci hanno preso Tutti le mira Ma è morito Vaffanculo Vai 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 proprio sì copri amici ci dobbiamo spostare si dobbiamo spostare pure cristofolo colombo ok questo è buono per favolo si andiamoci no no dobbiamo andare dobbiamo andare che stai a fa' dobbiamo andarmi come io dobbiamo andarmi serve legname ok vai perfetto perfetto ragazzi ma ragazzi dobbiamo andare assolutamente vai 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 porca miseria vabbè dato ce la dovremmo fare no per cazzo proprio tocca sbrigasse pure si tocca sbrigasse si tocca sbrigasse si tocca sbrigasse comunque ragazzi 8 kg non è male 8 kg non è male il materiale sono importantissimi cazzarola ok lì sta arrivando anche la mongolfiera andiamo un attimo perché per me qua ok aspetta vai perfetto aia cazzo dai non mi fa costruire cristo aiuto eh ma se questi sono forti ora vai 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 fatelo 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 amico mio fatelo amico mio fatelo amico mio dai eh ma se non ce la fa me non lo vedo molto no non te ne ammazza quello per terra non te ne ammazza quello per terra no non ce la fa è morto non ce la fa ragazzi eh niente niente siamo arrivati sessi mannaggia la miseria comunque ho peccato raga prima partita secondo me è andata molto bene ci siamo fatti ci siamo fatti queste 8 kill non so male come prima partita niente ragazzi purtroppo come prima partita qui con questo video dei sniper abbiamo fatto 8 kill quindi veramente ho giocato veramente molto bene però siamo arrivati sessi ragazzi potevamo giocare molto meglio potevo giocare molto meglio eh ho sbagliato a trovare lo scontro così diretto uno l'ho abbattuto ma purtroppo l'altro mi ha praticamente fregato perché non sono riuscita a costruirmi intorno quindi a me quello che mi frega tanto raga è costruirmi intorno molto velocemente signori spero comunque questo video vi sia piaciuto se volete un duo semmai con ciccio oppure un team con io ciccio e sector e gabbo oppure io ciccio anima e gabbo fatemi sapere i commenti e ci facciamo un bel team sniper vediamo un pochettino quello che riusciamo a fare ci vediamo con un prossimo appartamento mi raccomando un bel like al prossimo video ciao signori ciao 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 ciao